Incontriamoci, sempre sorprese, artisti che magari voi non sapete, tanti magari non seguono. Intanto noi siamo qui in compagnia adesso di Piero Sponze, su Facebook e poi... Ma Facebook è più aggiornato con le foto e tende a attribuire... Sì, ma poi dovrai dire cosa fai, hai fatto delle cose bellissime prima, adesso... Sono partito dalla Calabria dopo tanto... Calabria, bellissimo, un applauso alla Calabria, ciao a tutti! Ciao, sono 25 anni che abito qui a Roma e mi ha portato a fare dei corsi di recitazioni. Diciamo, con alcuni registi ho fatto dei cortometraggi per iniziare, con il mio regista Daniele Gattinari, che anche con lui ci sono dei grandi progetti come ruolo. Poi con il regista spagnolo, Marussia Estrada, lì ho fatto il maniaco. Eh, ce l'hai un po', vuoi darmi un momento per i miei occhi? Sì, anche se non puoi. No, vabbè, poi... L'attore deve essere così. Sì, ho fatto anche un'accademia di cinema e tv, che questa accademia mi ha portato a fare anche l'attore, diciamo, di ruolo, perché abbiamo, con tutti i miei colleghi, abbiamo realizzato un film e l'abbiamo girato e si chiama Cross. Cross, questo è l'ultimo lavoro? Sì, è che il 26 marzo del 2017 l'abbiamo presentato alla Casa del Cinema. Ah, ma che bello. Ci inviti tutti, tutti i dati. Sì, sicuramente, anche perché a me ci ritorni in accademia perché ci sono altri due progetti di film, Cross 2 e Reverse, sul femminicidio. Guarda che grande, sono purtroppo... è il momento, stiamo vivendo un'epoca terribile. Certo. Comunque bravo, complimenti. C'è anche la preparazione ad un altro film, diciamo, di Mario Cosentino. Cos'è di rassicurati, già un ruolo importante nel film, aspettiamo solo che iniziano le riprese. Eh, complimenti. Grazie. Grazie, è stata una sorpresa. Certo. Sponsor, perciò lo potete trovare, come vi è detto, sul social network Facebook. Sicuramente dopo l'ottobre perché sono rimasti pochi mesi di film dell'Accademia, per dover il diploma di Cielo. Bocca al lupo. Grazie. Te lo diciamo insieme ai nostri amici che ci stanno seguendo. Grazie di servire con noi. Piero. A loro. Sponsor. Sponsor, non è facile. Ciao. Ciao. Ciao.